Ciao ragazzi, sono Luca e sono un tutor già school. In questa lezione vedremo cosa sono gli insiemi. Nel primo passaggio ci occuperemo innanzitutto di capire la definizione esatta ed alcune regole e simboli. E per definizione si intende che un insieme in matematica è un raggruppamento di elementi distinti e ben definiti accomunati da una caratteristica oggettiva. Ora, cerchiamo di capire meglio. Per essere più chiari, nel linguaggio di tutti i giorni si usa la parola insieme per indicare una raccolta o ancora una collezione di elementi e per raggruppamento si intende oggetti, persone, città, animali, lettere o numeri mentre per caratteristica oggettiva invece si intende qualcosa di reale. Ad esempio che gli alunni della classe seconda A sono 18, quindi stiamo realmente dicendo che la classe ha 18 elementi, non possiamo dire il contrario, e dunque viene classificata come caratteristica oggettiva, quindi qualcosa riconosciuta da tutti. Per fare un altro esempio di caratteristica oggettiva, prendiamo in considerazione l'insieme della squadra di calcio della Juventus, ovvero gli elementi che hanno giocato domenica. Dobbiamo dire che hanno giocato 11 giocatori, anche in questo caso è una caratteristica oggettiva. Non possiamo affermare che a giocare domenica erano in 12. Mentre quando si dice che sono distinti, si intende che devono essere diversi tra loro e non uguali. Se prendiamo in considerazione i 18 alunni della classe seconda A, possiamo affermare che nell'insieme sono presenti gli elementi che comprendono 9 femmine e 9 maschi. Dunque abbiamo capito che sono diversi tra loro, non uguali, ma questo lo spiegheremo nella seconda lezione. Mentre se intendiamo che sono ben definiti, dobbiamo essere certi di quali sono gli elementi che compongono un insieme. Ad esempio non esiste l'insieme delle città più belle, perché non siamo in grado di stabilire quali sono le città più belle per tutti. Per alcuni a Roma è la città più bella, per altri non lo è. Mentre esiste l'insieme delle città più belle per Giulio. Ecco quindi cosa si intende per ben definiti. Chiaro? Detto questo, passiamo ai simboli matematici che servono per indicare gli insiemi. Se ad esempio raggruppiamo gli elementi delle lettere di un nome specifico, l'insieme dobbiamo indicarlo con le lettere maiuscole. Quindi lo chiameremo A. Avremmo potuto chiamarlo anche K, M. Mentre gli elementi, e in questo caso le lettere dell'alfabeto che compongono il nome Martina, per farlo dobbiamo utilizzare le lettere dell'alfabeto minuscole. E sarà così anche per i nomi di animali, città, cose e oggetti. Gli altri simboli che dobbiamo utilizzare, se vogliamo dire che la lettera M di Martina fa parte dell'insieme A, utilizzeremo questo simbolo, che vuol dire appartiene. Dunque scriveremo che M appartiene all'insieme A. Mentre se vogliamo dire che la lettera E, che non è presente nell'insieme A, dato che non è presente nella parola Martina, utilizzeremo questo simbolo, che vuol dire non appartiene. Quindi E non appartiene ad A. Oltre a questo, ciò che devi sapere è che un insieme può essere finito, infinito o vuoto. Vediamo le definizioni. Un insieme si dice finito se i suoi elementi sono un numero limitato. Ad esempio, se consideriamo nell'insieme dei numeri che vanno da 1 a 100, anche se i numeri sono infiniti, possiamo affermare che all'interno abbiamo un numero definito, cioè un numero finito, ovvero quei numeri che vanno da 1 a 100. Si dice invece infinito se i suoi elementi all'interno dell'insieme sono infiniti. Ad esempio, l'insieme di tutti i numeri esistenti è un insieme infinito, dato che i numeri sono infiniti. Mentre un insieme si dice vuoto se all'interno non ha alcun elemento e per indicarlo si utilizza questo simbolo, oppure due parentesi graffie chiuse. Abbiamo visto le definizioni degli insiemi. Ora passiamo alla rappresentazione di un insieme. In questo caso i metodi sono tre. Il primo metodo è la rappresentazione grafica, ovvero quella dei cerchi dove all'interno metteremo gli elementi che fanno parte dell'insieme, mentre nel cerchio B metteremo quelli che non fanno parte dell'insieme, quindi che non appartengono all'insieme A. E questi disegni grafici si chiamano diagramma di Euler-Rowen. Il secondo metodo, invece, è quello della rappresentazione degli elenchi e per farlo dobbiamo elencare, senza utilizzare la grafica, gli insiemi e gli elementi. Quindi scriviamo A uguale aperta parentesi graffa, farina virgola, acqua virgola, sale virgola, olio virgola, lievito, chiusa graffa. A volte, invece, ci troviamo davanti ad una difficoltà reale. Proviamo ad immaginare di elencare un insieme di tutti i numeri infiniti. Se dovessimo elencarli tutti, sarebbe un'impresa titanica. Ecco quindi che ci viene incontro il terzo metodo, che è quello per la rappresentazione caratteristica. E per rappresentarla utilizzeremo questo simbolo, quindi una linea che dà il significato di tali che. Facciamo un esempio. Se volessimo elencare nell'insieme B tutte le parole che stanno nella Bibbia, e sappiamo che sono davvero tante, non possiamo elencarle tutte dentro un insieme, quindi scriveremo che B uguale aperta graffa, X tali che X è una parola della Bibbia. Per capire meglio, se vogliamo elencare con la rappresentazione caratteristica tutte le vie delle strade di Milano, scriveremo che A è uguale a X tali che X è una via di Milano. Quindi che tutti gli elementi che indicano con la X dell'insieme A tali che X è una via di Milano. Per metodo di rappresentazione caratteristica non si intende che va considerato solo se alcuni elementi sono tantissimi o infiniti. possiamo farlo anche con i colori dell'arcobaleno, ad esempio B uguale X tali che X è un colore dell'arcobaleno. Chiaro? Nella prossima lezione vedremo alcune regole degli insiemi e cosa sono i sottoinsiemi. Se questa lezione ti è piaciuta, lascia un like e non dimenticarti di iscriverti al canale per non perdere gli aggiornamenti. Dal tutor Luca è tutto. Ciao! Ciao!